E' Mike Kerr, fotografo di Los Angeles, il vincitore del challenge fotografico Life is Travel, organizzato dall'Associazione D'Altra Sciacca assieme ad amici e familiari di Fabrizio Piro, il giovane reporter saccense prematuramente scomparso a cui è dedicato il concorso. Scopo del challenge era quello di raccontare attraverso una sola foto postata su Instagram il concetto di viaggio, inteso come viaggio di svago, lavoro, della speranza e di spiritualità. Per partecipare bastava aggiungere l'hashtag Life Memorial People e Life is Travel. Il vincitore, che sul social network è iscritto col nome di La Photo Journal, ha intitolato la sua foto Zig Zag. Uno scatto in bianco e nero che ritrae un uomo nella downtown di Los Angeles e come in tutte le altre sue foto seguite da oltre 10.000 followers, racchiude in sé una storia. Al concorso hanno partecipato in 33, scatti che sono stati sottoposti a valutazione da una piccola giuria composta da Antonella Russo, moglie di Fabrizio Piro, Riccardo Catagnaro, creative director, amico di Fabrizio e Salvo Balistreri, fotografo. I tre giurati hanno tenuto conto principalmente dell'attinenza al tema, dandone un peso del 60%. Poi hanno confrontato le foto riguardo creatività, tecnica realizzativa e composizione. Ed alla fine lo scatto di Mike Kerr è stato quello premiato. Al fotografo americano andrà un ricordo realizzato in ceramica. Con la proclamazione del vincitore del challenge si chiude il ciclo di iniziative Life 2016, iniziato questa estate con la caccia al tesoro fotografica, che ha visto i partecipanti scovare posti sparsi per sciacca da fotografare nel minor tempo possibile. Ed è la mostra Life is Travel, allestita all'altro superiore del Palazzo Municipale ad agosto e che ha anticipato il concorso su Instagram. Grazie a tutti.